Il governo di Giorgia Meloni ha avuto un giudizio così lusinghiero in momenti così difficili da parte delle agenzie di rating, da parte degli investitori internazionali e dimostrazione del fatto che la borsa italiana è la borsa che è più cresciuta in questi anni tra tutte le borse europee, da parte degli investitori stranieri che sempre più, come dimostra anche il miti di oggi, stanno giungendo nel nostro paese per localizzare in Italia i loro investimenti, se c'è un giudizio così positivo e lusinghiero delle agenzie di rating, dei mercati internazionali, di chi investe in borsa, di chi investe nelle imprese è perché abbiamo dimostrato di poter realizzare una politica economica anche molto responsabile sui conti pubblici e aver fermato la voragine del super bonus di questo pozzo senza fondo che trascinava appunto nel buio del disastro economico i nostri conti pubblici è stato sicuramente uno dei fattori decisivi del giudizio internazionale che ci permette di guardare con più fiducia al futuro, non dobbiamo nullare su questa strada. Grazie.